Oggi è il 4 novembre 2022 e quest'oggi vi parlo dell'elemento acqua. A settembre vi ho parlato del sole, mettendoli in comunicazione con i solari. A dottobre vi della terra, mettendoli in comunicazione con Gaia. Ora novembre, è il mese di mattina. Parleremo con il popolo di Atlantide, con le ondine, con l'elemento acqua. Noi siamo fatti l'acqua, faremo vibrare la nostra acqua, ricaricheremo la nostra acqua, informeremo l'acqua. Vi parlerò delle fonti mariane, delle acche sacre e di tutto ciò che riguarda l'elemento acqua. E del popolo di Atlantide, e del lio di Atlantide, e delle ondine meravigliose. Insomma, io vi aspetto il 20 novembre 2022 alle ore 20, fino alle 23 circa, per fare un viaggio insieme nell'elemento acqua. Ma soprattutto, perché è urgente connetterci con questo elemento che vibra anche dentro noi. E tutti insieme viaggeremo alla scoperta di Atlantide e berremo dell'acqua consacrata. Un bacio a tutti dall'acqua.